DIAVO! E' la face mask da nello! Che cazzo me la... Smettila! Stai smanando a zombie o a lui? A DUDE A PES... Mary? C'è qualcuno qui Buttateli sotto, da sopra piuttosto Fai rumore, fai rumore Arrivo su Su scarico Dov'è? Dov'è? Ok, l'ho ucciso, l'ho ucciso Non l'hai ucciso, non l'hai ucciso No, l'ho ucciso, è giù Mi si è inceppato il fucile L'ho ucciso, hai lasciato E' morto, morto Mi si è inceppato ancora Sto posto è un'autentica merda Allora, vuoi andare? Passo dal tetto, vai Io vado a quella ucciso io, eh Ok Trovato Kirby E' pieno di roba del Mosin È entrato un colpo, ma non so come cos'è Mosin... Iapo, vengono i granaio, mettiamoci un attimo lì Morto Ok Aspetta Mirko che arriva Ma io vengo da voi O cerco... Il mio corpo non ha senso andarci proprio Il mio corpo non ha senso andarci proprio Questo è gente, questo è gente Sound muted Sound resumed Entrato? No, non è entrato ancora No, no, è aperto però Entrimone Non ti muovere, eh Volta Voilà Qua was Voilà Wow Tieni Zitti Scino Ah... Inciso Ma come cazzo è arrivato? Eh, effe le scale non fanno quasi rumore È il tipo di prima, eh È il tipo di prima Oh, caso Mi l'avevate già uscito dai Mirko vieni qui corro spara praticamente da di fronte ragazzi se riesce ad andare dal mio corpo nere scena eh qualcosa Dani sei te che entri? no 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 spara Dio caro dai davanti dai l'ho ucciso c'è un altro un flash bravi venite dentro subito eh c'ho zero di vita c'ho zero di vita no non ho munizione per l'arma mi spara no no ho sparato io Mirko ah allora vieni dentro arriva Yaopo si vuole via chi è qui sotto? questo non è Yaopo no no non sono io io miro la porta dove c'è Dani f***** ti sparano c'è uno camperato rev kermit hanno aperto? no no non hanno aperto si hanno aperto hanno aperto la mia porta passano aprono l'altra ora eh hanno aperto sono in due entrano insieme eh mi sposto mi sposto mi vendo entreranno speravano a me speravano a me lo vedo se volete si aspetta 10 minuti si è slow rev kermit ha ucciso su o ha ucciso hernit what the f***** questa roba varia ok booman booman è di nuovo qui l'ho ucciso poco tempo fa andiamo via andiamo via andiamo via io sui più o meno da dove c'è la zona questa zona qua vai 33 vai inizio a uscire potesse pingare sulle strutture eccolo l'ho visto è andato sulle scale è salito sta salendo a piano di sopra all'ultimo piano non non alla stazione ecco questa porta c'è gente dentro oh volavo di sotto il cadavere l'elicottero il problema è che non sta fermo dov'è sto elicottero? ah è Merlin si si sta andando via però non viene qui l'ho ucciso bravo bravo hai ucciso Risto visti ce n'è uno dietro di me visto dov'è? qua nel campo c'è l'altro? ragazzi sono rosso mi devo curare l'altro dov'è? è qui è qui è qui è qui da me non mi ha visto ho tre colpi devo ricaricare uno è qui nel bosco dietro di noi eh qua più o meno dove ho sputtato non l'hai sputtato? ok minchia quanti cazzo di colpi si è attancato di ti? porto una salina lì sto facendo ordine dove hai questi? eh? li vuoi? come Gavi? non ci metti il culo perché è una singola balcone con la macchina è una singola balcone e te la vedo come una 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 è possibile allora ti ho preso? eh no ho sparato in bassissimo non ti ho nemmeno mirato ho sparato qui è giusto è giusto è giusto è giusto a 12 capita tanto spesso però tutti e 20 colpi sul corpo guarda seguitemi che andiamo a morire ah scusa guarda tieni ma andiamo a morire io volevo prima vedere un attimo come ero va che fa chi ha quello nero senza advent ma non è che è un evento questo ragazzi che prelude quello che ci fa svenire tutti dai un occhio al discorso poi faccio già stato prima sento una bambina carita adesso madonna no micchia ragazzi è fatta troppo bene l'ho sentito pure? dove cazzo sei andato? andiamo a vedere se c'è qualcuno no 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 è inquietantissimo ragazzi mi sto cagando addosso vado a dare una vita eh e te la fai te e la oh no adesso diventa tutto rosso io mi avvicinerei alla base allora ragazzi io voglio vedere che cazzo succede sto fuori e c'erano due persi di fulmini poi diventa tutto rosso e poi si viene da te e poi si cambia il cuore andate oh cazzo cazzo una volta che lo sai non è guardatevi a incostare e vabbè però sentite i bassi di Godzilla i bassi madonna senti i bassi i bassi i bassi e che musica ragazzi mi si stanno sfondando le orecchie anche a me e io di solito sono abbastanza abituato ai bassi ma sai che ci stai se io non ci arrivo al suono e se ti cade la pala se ci stai con quella in mano ma se stiamo in casa si sviene lo stesso ahhh che svegli ahhh che svegli cazzo io sono in campo cazzo sono svegli cazzo 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 io ho metà vita p***a m***a lo sai durante un fight una roba del genere? si esatto durante un fight cazzo mi sta flerando tutto ogni giorno lo fa questa cosa qua gabriel è morto a prima volta perchè fa 0 e appunto cazzo 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 e rompere i coglioni ho capito ma mettiamo la cotellata la fischer non è una risposta proporzionale brutto coglione oi oi chi è chi? questo chi è? questo è il rex dai e il rado x6 da porco tu stavo per sparare ohhhh nova nova? te hai il coraggio di dire nova? cazzo 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 c'è il ciclo capri io sono picchiato non capire ma quella è una eagle è una glocca mazz mazz questo è nonismo devi stare zitto e subire è scorrente di che è sta caso volevi dire nostra oh chi è questo apri apri si sciupi la roba capri capri scappi mi spacchi tutto io c'ho sta roba del era un tracciante hanno sparato in aria non so per quale cazzo comunque io c'ho sto blur che mi compi li avete visti? si si l'ho visto lì a destra anch'io ho i traccianti ragazzi diamogli ah si l'ho visto c'ho un drop guarda vedi c'è fumo comunque il crash site è qui i loro saranno molto più in là oh fermi tutti fermi io sono trovato spara 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 ma sei proprio coglioni comunque rianimatemi c'ho due tagli sono andato giù dove sei dove sei ragazzi mi sto svegliando però sto perdendo sangue c'ho due tagli mi sentite mi sentite mi sentite no 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 vendatemi vendatemi eccola 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 vai 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 chiusi 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 ti spara io non ho sparato allora no vendatemi vendatemi sono nell'albero io non ho parole minchia 5 tagli ma no guarda che non è di te ho capito ma poi vedi sparato a me chi è che ha sparato con la pistola questo qui è morto questo è morto nell'albero sono io ok ma questo è morto un altro 5 tagli scopo a sta uno tiro una smetragliata fa' finta ok vendatelo boccia perché la veloce il tipo è morto l'altro qualcuno mi sta colpendo chi è questo sono urcito sono urcito sei acqua ormai non manca un po' di l'arma io voglio sei sei aspetta che te lo non hai fatto è comunque rex mai successo una roba del genere giocare rex io non ho neanche sparato quindi sei zitto qualcuno vuole andare in coscio mi copia questo nessuno ha un coso per visore è uno in pista raga è uno zombie è uno zombie io sono all'angar io sono all'angar io mi avete ucciso è stato capri non è vero io ho sparato adesso arrivo a shot rex non me ne fottu ma vai a farti vedere anche per calcare il tuo giorno ma che dovete vedere è un terciso io non ho anche sparato facciamo uno c'è uno in pista c'è uno in pista stai zitto mi ha detto mi sa che mi sa che chiamo mi sa che Grazie a tutti.